La Banca Europea degli Investimenti è una banca collegata alla Commissione Europea, tale progetto permette di finanziare da 2 milioni di Euro fino a 12 milioni e mezzo di Euro in 15 anni ad un tasso puramente zero. Possono partecipare società che hanno fatturati anni da 200 mila Euro a salire, possono partecipare quasi tutte le attività commerciali purché abbiano un'innovazione di processo di prodotto o di servizio. Cosa fondamentale è che tutto l'importo che viene erogato da tale istituto viene erogato immediatamente alla firma della libera. Tale bando finanzia opere murarie, arredamenti, macchinari e attrezzature.